Traffico illecito di rifiuti speciali in discarica abusiva. Con questo atto d'accusa sono stati rinviati a giudizio a vario titolo l'amministratore unico dell'Express, società che gestisce l'aeroporto dei parchi di pretura all'Aquila, Giuseppe Domizio Musarella, il direttore commerciale Ignazio Caramonte, l'ingegnere comunale Mario Corridore, il responsabile per l'ufficio sviluppo dello Scala Aquilano Piero Negrini, socio e comandatario della società Delta Impianti, Rachele e Antonio Lunari, amministratore unico e titolare della dittona omonima di trasporti. In particolare Musarella, Corridore e Chiaramonte, come scrive il messaggero, ricevevano i materiali facendoli scaricare nella zona nord dell'aeroporto di preturo con Negrini e Lunari, invece accusati di aver trasportato e scaricato i rifiuti speciali. Il processo è stato fissato a maggio 2017. A fine 2014, Forestale, Finanza e Polizia eseguirono dei degredi di sequestro preventivo emessi dal GIPO e dal Tribunale dell'Aquila Guendanina Buccella, nonché un decreto di sequestro probatorio di una parte dell'area interna all'aeroporto di proprietà del Comune dell'Aquila e gestita dalla società Xpressa, di sei autocari di proprietà delle due ditte coinvolte nell'inchiesta, oltre che di beni della Xpress, per un valore di 36.000 euro. I provvedimenti sono giunti al termine di una lunga indagine, durata diversi mesi, e mirata alla verifica delle procedure di smaltimento dei rifiuti. Stando alle risultanze, con mezzi pesanti appartenenti alle ditte Delta Impianti dell'Aquila e Lunari SRL di Rieti, erano stati illecitamente trasportati, scaricati e smaltiti, senza le prescritte autorizzazioni, ingenti quantitativi di macerie. L'obiettivo era realizzare a costo zero, grazie ai materiali di risulta che sarebbero poi stati ricoperti, la nuova area di sicurezza di fine pista, avente la finalità di riduzione del rischio per aeromobili in caso di atterraggio lungo o di uscita fuori pista. Durante la fase investigativa, si è potuto accertare che le ditte di trasporto prelevavano, tramite loro autocarri, da quattro cantieri edili insistenti sui edifici demoliti, terra e materiale di risulta, per poi trasportarlo e scaricarlo all'interno dell'area aeroportuale. Ora il Comune dell'Aquila si è costituito parte civile, chiedendo il risarcimento di 550.000 euro, non solo per il danno d'immagine, ma anche perché i lavori di allungamento e completamento della pista non sono mai stati completati.